Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno, così sarai sempre aggiornata e aggiornato sui nuovi contenuti e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Honda CMX 1100 Rebel del 2024, la Honda Rebel è una moto di tipo Bobber che prende quindi il nome dal parafango posteriore cosiddetto Bobber perché è accorciato, ma il telaio contrario dei chopper, quindi nella tradizione che risale agli anni 50 di modificare le moto quindi con la filosofia chopper che ha appunto il significato di tagliare il telaio e per allungare le forcelle, quindi sono caratterizzate queste moto da una forcella molto allungata e con la ruota anteriore piccolina e la posteriore invece di generose dimensioni, mentre per quanto riguarda la filosofia invece dei Bobber il telaio sostanzialmente rimaneva invariato, parliamo appunto delle moto di questo periodo degli anni 50 e poi si facevano altre modifiche come ad esempio era il fatto di aumentare la dimensione di entrambi i pneumatici, cioè di rendere la sezione laterale del pneumatico più alta, quindi sì le moto venivano modificate, però appunto in modo diverso rispetto alle chopper e di questa moda insomma si appropria appunto la Bobber e ne vediamo appunto le caratteristiche poi nel dettaglio capiremo appunto in che modo segue questa moda. Altra caratteristica appunto è data dal pneumatico che di fatto è di generose dimensioni, poi lo vediamo. Quindi si tratta di un'ottima moto per le passeggiate anche di lunga percorrenza, ricordo che il motore 1.100 su tratti autostradali con il parabrezza con un accessorio, quindi accessoriata eventualmente con un bel parabrezza e le borse laterali, direi appunto di vederla. Eccola qui nelle immagini, quindi notiamo subito queste caratteristiche che partono sicuramente da pneumatici che sono di generosa dimensione, poi abbiamo sostanzialmente un manubrio normale, quindi non particolarmente modificato rispetto a un manubrio tradizionale, pedale leggermente avanzate, ecco l'altra caratteristica è quella di avere la sella comunque piuttosto bassa, infatti notiamo appunto la sella bassa, di solito una monosella, qui invece è stato previsto anche un alloggio anche se abbastanza scomodo per il passeggero, comunque c'è con questo piccolo sellino sul parafango, montato direttamente sul parafango. Ma andiamo con ordine, partiamo dal motore, un bicilindrico in linea di raffreddato liquido, cilindrata di 1.094 cm3 con la distribuzione denominata Unicam a 4 valvole per cilindro, la potenza massima di 87 cavalli e 7.000 giro al minuto, mentre la coppia massima di 98 Nm ha 4.750 giri al minuto. Il telaio è formato da un tubolare in acciaio con una struttura a diamante, mentre la sospensione anteriore ha fidato a una forcella con gli stedi a 43 mm regolabile nel precarico e al posteriore siamo in presenza di una coppia di ammortizzatori con il serbatoio separato e anch'essi regolabili nel precarico della molla. L'altezza della sella, abbiamo detto, piuttosto bassa è di solo i 700 mm. Le ruote molto belle in alluminio pressofuso sono da 18 pollici all'anteriore e 16 pollici al posteriore. Il freno anteriore è formato poi da un disco, vediamo qui meglio nell'immagine, eccolo qui, un disco flottante con il diametro da 330 mm, quindi di generosissima dimensione, con la pinza d'attacco radiale e 4 pistoncini, mentre al posteriore abbiamo sempre un disco con il diametro da 256 mm e la pinza a singolo pistoncino. Il serbatoio ha una capacità di 13,6 litri, quindi abbastanza piccolo, visto anche la cilindrata, ma d'altronde la forma appunto a goccia tipica di queste moto come delle chopper lo impone, insomma impone anche per motivi estetici appunto, sia la forma, sia il fatto che sia contenuto il volume, il peso in ordine di marcia e con il pieno di benzina è 233 kg. Se ti è piaciuto il video metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi, primo gratis, non ti costa assolutamente nulla, ma contribuisce alla diffusione del canale, in secondo luogo faccio un video al giorno, quindi sarai sempre aggiornato a giornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi. Ciao, grazie per l'attenzione e buona serata.